Buongiorno amici del Resto del Carlino.it, quota 30.000, questo l'obiettivo del Bologna per riempire lo stadio dall'Ara in vista della sfida di domenica con il Catania. È la partita che vale la permanenza in Serie A. Il Bologna deve vincerla o comunque ottenere lo stesso risultato finale che otterrà il Torino contro la Roma. Per il fatto che le due squadre sono a pari punti ma il Bologna è in vantaggio negli scontri diretti, a salvarsi sarebbe in quel caso il Bologna. Sono oltre 7.000 i biglietti già venduti che si aggiungono ai 14.000 abbonati, dunque non è un sogno quello di avere un dall'Ara pieno per questa, si spera, festa della permanenza in Serie A. Intanto il Bologna cerca il suo uomo del destino, il goleador che potrebbe rimanere nella storia per mettere il sigillo alla salvezza. È sempre stato così in passato, uomini importanti sono stati ricordati per gol decisivi legati a promozioni o salvezze in extremis. È ovvio che l'identikit riconduce inevitabilmente a Marco Divaio, capocannoniere della Serie A insieme ad Ibraimovic con 23 gol, candidato alla scarpa d'oro e che proprio oggi pomeriggio potrebbe essere richiamato da Marcello Lippi in nazionale e vestire la maglia azzurra che non veste da oltre 5 anni, dunque sarebbe il coronamento davvero di una stagione incredibile che ha riportato al vertice questo cannoniere straordinario che potrà dare ancora grandi soddisfazioni al Bologna. Dal punto di vista della formazione c'è un piccolo problema per terzi che potrebbe metterlo ai margini della Rosa visto che ha una distorsione alla caviglia ma è possibile anche il recupero. Castellini comunque sta meglio e nel caso sono sempre pronti Rodriguez e Lanna che stanno recuperando e potrebbero rivestire una delle maglie della difesa. Ci sono pochi dubbi sostanzialmente sulla formazione che oggi proverà in amichevole e che contemplerà sicuramente 5 centrocampisti con due esterni che potrebbero essere Marchini e Valiani. Osvaldo dovrebbe fare da ponte per appoggiare le qualità gol di Marco Divaio in attacco. Dunque la formula è trovata, la concentrazione il Bologna l'ha inseguita con tenacia. Si tratta soltanto di arrivare al momento giusto e firmare questa vittoria che vale la Serie A.